E salve a tutti amici, sono seppri e ricordo benvenuti in questo nuovo episodio di Fardas Frontier Abbiamo fatto così tanti progressi in soli 5 episodi ed eccoci qua, ci stiamo ritrovando Dove ci siamo lasciati la scorsa volta, cioè quella costruzione del nostro nuovo giardino centrale Con tutte le cose belle e carine lì vicine Allora, mi avete fatto notare che praticamente si sta sviluppando un solo quartiere alla volta Perché di qua c'è la concentrazione delle cose più belle, tra virgolette Ed è vero, è vero perché per quanto sia stato uno sviluppo organico La partita, la città è partita da questo principale quartiere È normale che andando avanti con il tempo, man mano che costruiremo nuove strutture Tante cose nuove, lo faremo progressivamente verso i quartieri più esterni Tant'è che di qua abbiamo case grandi, questa qua è una casa grande E di qua invece abbiamo ancora il casolare, cioè per dire Forse ecco, qua abbiamo ancora proprio gli alloggi Quindi fate voi di cosa stiamo parlando La situazione non è malaccio Nel senso abbiamo un bel po' di persone E tutto sommato copriamo la maggior parte dei ruoli Ci mancano Allora, vasai, mobilieri, bottai e armaioli Io pensavo di aver costruito la bottega del bottario E a quanto pare no Qua ci sono alcune zone dove non si può lavorare Per quale ragione? Non fa nulla, non puoi lavorare Perché non puoi lavorare? Qual è il problema? Ci dai le cose in deposito? Mi ricordo che avevamo qualche problema con la legna da ardere Ecco qua, quindi Vai subito, assolutamente E non solo, ti miglioro pure Perché noi non ci possiamo avviare verso l'inverno senza legna da ardere Cioè proprio no Cosa che in realtà stiamo facendo Quindi Stiamo pensi proprio bene Allora, qual è l'obiettivo di oggi? Beh, l'obiettivo di oggi È portare a termine un'eventuale espansione Per quanto riguarda le risorse di questo tier Mettiamola così Quindi il tier 4 Giusto? No, tier 3 E iniziare a pensare magari di costruire dei muri La cosa potrebbe non essere ovvia Perché comunque abbiamo già coperto Una grande area Quindi probabilmente faremo Principalmente questa Zona murata E poi vedi Ah, c'è tutto un dire Ci sono aree di lavoro vuote Non può fare nulla Ma che solo alberi maturi? Ma scusi un attimo Ah beh, ma perché te raccoglievi la pietra E... Boh, pietra qua non ce n'è Quindi dove ti posso spostare? Riposizionare l'edificio Vai, qua Perfetto Va bene Senza perdere tempo Perché io so che inizierò a perdere tempo Allora, prima di tutto Un'accalappia topi Qua Dov'è? Accalappia topi Mettiamo qua E gli facciamo tenere sotto controllo questa zona Però dicevo Senza perdere tempo Iniziamo a mettere su le mura E probabilmente conviene già farle in pietra Tutto sto muro qua non ce la faremo mai a farlo Ma proprio mai Però pian piano Pian piano Ci proveremo Perché è necessario Assolutamente Anzi, iniziamo già a metterlo Anche di qua Ok E abbiamo buttato giù Il progetto delle mura E ora vediamo Cioè dovremmo comprare Una quantità enorme Di pietra Assolutamente Questi qua li potrei migliorare Anche solo perché sono lì vicini Guardate E' 99 Ioni E' 99 Qualche campo in più Magari Cioè tu non mi puoi dire Che adesso non mi trovi la pietra Perché io T'ammazzo Per forza A parte che sono uno scemo L'ho messo nel posto sbagliato Il campo di lavoro Dovevo metterlo Qua Perché adesso Io gli faccio questo Così Dove è il muro? Qua Ok Perché ragazzi adesso Io qua ce la faccio C'è un campo Ce lo faccio ancora Stanno saccheggiando Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che sarebbe successo Quanti siete? 34 Boy Vediamo un po' Da dove arrivano Maggio parte da qua Quindi sono divisi in due gruppi Il principale è qua sotto Ok Allora Cosa significa Che siete senza armi? Sono partiti Sono partiti Sono partiti Signori Sono partiti Edificio distrutto Dove? Di già Ma che Ma stiamo scherzando Cazzo Me ne frega Adesso il mercante Girovago Uccisi 27 Predoni 29 Predoni Vediamo che potremmo aver risolto Abbiamo perso solo uno Sì Sembrano tutti morti Esatto Andiamo a vedere intanto Il mercante Ascolta un po' Ce l'hai un po' di pietra No eh Maledetto Il villaggio è stato saccheggiato Cosa abbiamo perso? Allora Non abbiamo perso niente Abbiamo ucciso 34 predoni Cioè 30 su 34 E un abitante E l'edificio distrutto Era un apiario Quindi guardate Cioè proprio ciao Benissimo Benissimo davvero Tanto la calappia topi qua Dovrebbe lavorare In questa zona Cercando di prendere più Abitazioni possibili Sì perché O gli faccio prendere questo E ne costruisco un altro Potrei eh Effettivamente Perché servono tanto Alloggi Sì 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 Facciamo così Facciamo così Assolutamente Adesso a me serve Che un mercante Venga qua e mi dica E guarda C'ho una quantità di pietra Che puoi acquistare Enorme Ti va di acquistarla? E la risposta è Sì Assolutamente Il cibo scarseggia Molti abitanti Non hanno scarpe E il lusso Seriamente Non è un problema mio Cioè è un problema mio Però Dopo 16 persone Le accettiamo? Sì Le accettiamo assolutamente Dobbiamo assolutamente Però boostare La produzione Perché Non va bene Non va bene Sono una produzione di cibo Beh in realtà Produzioni un po' di tutto Però principalmente il cibo Perché più persone abbiamo E più persone riusciamo Cioè più soldi riusciamo A tirare su Però c'è un bel problema Perché poi Dobbiamo boostare La produzione di cibo Sennò queste persone Non riusciamo a sostenerle Praticamente Il muro sta venendo costruito Buono buono Ci sono aree di lavoro vuote Eh però Ma hai rotto le palle Qua c'è pure Una tana di lupo Potrebbe essere il caso Prima che effettivamente Partono I lavoratori Andiamo lì con i soldati Andiamo a distruggere La tana di lupo Scusate un attimo Perché sono tutti Qua i predatori Stanno attaccando Buono Distrutta la tana di lupo Fantastico Quasi quasi Aggiungerei un po' di persone All'edile Le raddoppiamo In realtà Almeno Diamo proprio una bella botta Per la costruzione Perché vedo che comunque Stanno affrontando Il muro da più parti Cioè Praticamente dappertutto Di qua Dall'altra parte C'è C'è qualcuno che sta partendo Con il muro Ok Buono Due capi di bestia menati Quindi qua siamo a 5 Stessa cosa a 5 Bene Non l'avevo mai visto Così velocemente Il progresso Cioè stanno lavorando Proprio il campo In una maniera Velocissima Tolgono gli alberi No Contemporaneamente Così siete fantastici Tolgono gli alberi Poi tolgono le Le erbacce E poi lavorano la terra Guardate un mercante Ciao mercante Cos'è che vendite Oddio Ti porto Trocento di legno Anche se è poco Ce n'ho davvero tanto Allora giustamente Siamo senza pietra Perché la stiamo impiegando Tutta praticamente Tra poco avremo anche Un altro campo Che penso utilizzeremo Direttamente per questo Sto Sta cantina di mattoni È strapiena Quella a fianco è vuota Come sia possibile Non ho idea Però questi qua Non hanno un minimo Di raziocinio Per pensare Di dividere le due cose Però Ehi Sai cosa Va bene Sai cosa Va bene Chi sono io Per mettermi qua Di squisire No Sbagliato La fauna Non ho messo Non ho messo Le recinzioni Mannaggia 17 persone Ma si Accettiamole Ecco adesso Siamo 44 Direi un buon numero Direi decisamente Un buon numero Cioè il cibo Ce l'abbiamo adesso Però vedete Sono tutti ortaggi Ortaggi Frutta Si chiaramente Cereali Proteine Già ne abbiamo poche Dovrei mettere Dei raccoglitori E questo ovviamente In prossimità Delle uscite Ecco qua Strada sterrata Mettiamo Dei capanni Di raccolta E facciamo Raccogliere fuori Così almeno Possiamo prendere Un po' di uova Magari vediamo Se riusciamo a mettere Su qualcosa Per la caccia Non mi sembra Però ci siano Ah si Qua c'è Quindi anche Un capanno di caccia E a sto punto Un affumicatoio Il personale Non ci manca Riusciamo a darglielo Senza problemi E poi faremo Altri campi A sto punto Faremo altri campi Campi si possono fare Anche fuori Non vedo Il motivo Per cui non si possano fare Anzi Se andate a vedere La stessa copertina Del gioco Copertina Oddio Lo splash screen Quello di caricamento Ha un villaggio Con all'esterno Tutti i campi Quindi potrei aver sbagliato Sin dall'inizio Panico Così ridendo e scherzando Intanto si stanno facendo Oddio Ridendo e scherzando Manca lì Non proprio Però si sono costruiti Una buona parte del muro Una volta Che qua Arriviamo ad un Punto tale Tipo che abbiamo Che ne so Dieci e dieci Potremmo pensare Di Dividere ancora di più Le mandrie Tipo mettiamo Cinque cinque Da un'altra In altre stalle Così per produrre Sempre di più Perché poi con le stalle È così Più ne hai Meglio è Ce l'hai un po' di pietra? Oh minchia Ce l'hai un po' di pietra Assolutamente Compra e trasferisce Buona Già abbiamo Gli abbiamo dato Tanti di quei soldi Allora Vai recupera Prima che iniziano a piantare Qua recuperate Qua pure Ok bene Così sono certo Che non ci siano problemi Ma fatemi vedere un attimo Sta bottega Che avevo costruito La bottega del bottaio No Non era bottega del bottaio Era il bottaio e basta Eh scusate un attimo Fatene un po' va Aspettate un attimo Ma 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 Buoni un attimo Il conserviere Sta qua no Sta nel cibo Produzione di cibo Bottega del conserviere Eh appunto Il casaro ce l'abbiamo A questo punto Utilizziamo anche Il conserviere La vetreria la produciamo Allora Il problema adesso Sembra essere Non so come sia possibile La Il lusso Quindi Facciamo così Io miglioro Queste due strutture Non c'è problemi E poi Costruiamo anche Dov'è Il Mobilaio No il mobilaio Non c'ha senso La palegnameria La costruiamo E va benissimo Così iniziamo a costruire I beni di lusso Qua come siamo messi Dobbiamo arrivare a 25 case grandi E siamo a 20 400 persone Siamo a 290 I mattoni non sono un problema Perché li possiamo ottenere L'ingotti d'oro Ci impegniamo forse E le assi di legno pure Wow Ma qua hanno quasi fatto il muro Anzi L'hanno fatto tutto Ma così Ma senza avvisare nemmeno Ma è fantastico gente Guardate manca Questo angolo qua Questo angolo qua Che è un po' grande Effettivamente Qua avranno spianato Lo possiamo provare a costruire Sto muro Sì Ce l'abbiamo fatta Bene E poi Rimane questa parte qua Fatto quello Dobbiamo iniziare a piazzare Magari Delle difese Wow Bene Hanno migliorato la carpenteria Scoppiato un incendio Ok No aspettate Quello lì è il casaro Menomale che l'hanno spento Una miniera esaurita Quale? Wow Oh ma che siamo seri Oh le cave d'argilla Pazzi Sgravati Dove sono le cave d'argilla Carbone Carbone ce l'avevamo qua vicino Perché sono dovuto andare Filla giù Ma c'è solo sabbia Non c'è argilla Non ci credo Eh la questione dell'argilla Ci mette in una situazione spinosa Cioè non tantissimo Perché non è la prima volta Che importiamo materie prime Guardate con la pietra Come abbiamo fatto Però L'argilla si utilizza Un po' di più Rispetto alla pietra Per dirne una Quindi Non so come faremo Ok Stanno costruendo il nuovo Il nuovo distretto Poi com'è che l'avevo fatto? Ci avevo messo anche una panetteria E un pozzo vicino Ehi Hanno 33 Buono Allora Difese Qua Questo E poi qua Probabilmente metteremo anche Ehi Metteremo anche una Una caserma Probabilmente Sì Ma scusate un attimo Qua ci sono Ci sono delle pietre Come è che non c'è nessuno Che ci lavora? Campo di lavoro Tu che eri qua Che ti stavi struggendo E tutto Ascolta un po' Ehi pietra Buono Aspetta un attimo però Mannaggia Stanno saccheggiando il villaggio 59 Predoni? Dio mio Questo qua dovrebbe essere Il nostro esercito Esercito 12 persone Non sono un esercito Però Andiamo in protezione Delle cose importanti L'oro Ecco qua Andate Ammucchiatevi No Hanno fatto breccia Proprio ora Ma vi pare normale Stanno scappando? Stanno scappando Bene Abbiamo finito Sono stati uccisi 42 predoni Su un gruppo di 50 E passa Però mi sa che sono morte Un po' di persone Un po' tante persone Sì Voglio vedere Proprio il netto Di cosa è successo Eccoli Adesso ci siamo Abbiamo perso pure un soldato Ok Villaggio saccheggiato Vediamo Non ci hanno rubato niente Però abbiamo perso 23 persone Brutta 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 Come vi dicevo però Adesso che il muro Teoricamente è costruito A parte che Avete visto Cioè è durato una vita Sto muro Dobbiamo iniziare a piazzare Le torrette Le torri Non le torrette Però Ecco Quello poi richiederà Un po' di soldi Va bene Va bene Direi che Abbiamo fatto abbastanza progressi Considerate che ci stiamo Espandendo ancora In questa direzione Cioè con le mura Praticamente ci siamo Cioè le devono costruire Ancora in un angolo In due angoli E basta Soltanto in quest'angolo Nemmeno nell'angolo In questa parte qua E in questo angolo Fatto quello Poi ci concentreremo Un po' di più Sulle difese E quindi le torri Con tutte le Le varie strade Poi eventualmente Che portano Dappertutto Almeno In caso di attacco Siamo un po' più coperti E lì poi Sicuramente qua In questa zona Un'altra Un'altra caserma Assolutamente Perché 12 soldati Non bastano Non bastano per niente Dunque io Per questo episodio Direi che termino qua Vi ringrazio tutti Tantissimo per avermi seguito E invito a lasciare Un bel mi piace E un commento Dicendomi cosa Ne pensate di questo episodio Come al solito Se avete dei consigli Lasciatemeli qua sotto Ne ho letti Un paio molto molto utili Nello scorso episodio E pensavo di iniziare Magari ad applicarli Dal termine Della costruzione Delle mura Perché riguarda Praticamente La tesoreria E tutti gli edifici Importanti Comunque io termino qua Vi ringrazio ancora tutti Per avermi seguito Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye Ciao